Gioca o non gioca Filippo Anderson, la Supercoppa italiana contro la Juventus si avvicina e i tifosi della Lazio ancora non sanno se il brasiliano sarà della partita. Fosse per lui, scenderebbe sicuramente in campo. Voglio giocare, ha spiegato a Mediaset Sky, ho avuto questo piccolo problema ma sto lavorando per tornare a disposizione del mister. E l'allenamento del pomeriggio, iniziato con una lezione in aula sul VAR da parte dell'ex arbitro Rosetti, conferma che il numero 10 bianco celeste migliora costantemente. Corre e lavora con i compagni, ma rimarrà in dubbio fino al fischio d'inizio. Se non ce la dovesse fare, Inzaghi lancerà Keita dal primo minuto. In chiusura aggiungiamo che la Lega ha reso noto l'arbitro di domenica, sarà il signor Massa di Imperia. Grazie a tutti.